Tutto a Salento! Naturalmente sentiamo in sottofondo il grande Robert Nesta Marley Naturalmente senza Robert Nesta Marley il reggae non ci sarebbe Quindi facciamo un applauso a Bob Marley! E anzi se ne fate la musica meglio perché stiamo per presentare Signori, è un gruppo che arriva dal nord-est, dal Friuli, da Pordenone Adesso facciamo il giochetto perché mi hanno detto di qualcosa Allora cominciamo a dire una mani in aria per quelli che sono dal Friuli Venezia Giulia Nessuno Una mani in aria della Lombardia Del Veneto, Venezia D'Ussalento Ok, adesso signori, questo gruppo vi spaccherà Un gruppo che ha partecipato anche al nostro Sun Splash Andrà anche a Robotor Sun Splash in Spagna Un gruppo, insomma, non ha bisogno di presentazioni Tante presentazioni, tante presentazioni Ottima reggae music! Salento Una mani in aria Signori Alba di media Meglio 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 Grazie a tutti. 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 tutti gli innamorati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.